Dopo lo stop forzato nel 2020 e l'edizione blindata del 2021, quest'anno è tornata nella sua forma classica lo Street Art Festival, appuntamento dedicato all'arte di strada tra le vie e le piazze del rione Riva di Biella. Organizzata dall'ente Manifestazioni Riva, la nona edizione ha ospitato da venerdì a domenica 11 compagnie per oltre 30 artisti proveniti da tutta Italia. Ad animare le strade ci sono stati anche artisti emergenti. Venerdì si sono esibite le Giallo Aperto, quattro artisti che fanno acrobazie su una struttura aerea fatta di cerchi e tessuti, mentre sabato hanno suonato in piazza San Giovanni Bosco, in Masonics, una band formata da giovani bellesi vincitori di Be On Stage, un nuovo progetto che supporta i giovani artisti non ancora entrati nei circuiti performativi tradizionali. Un'altra novità è invece la parte dedicata allo street food, che ha permesso al pubblico di cenare in loco e poi di godersi i vari spettacoli. Andrea Morabito, direttore artistico dell'evento, si è detto molto contento di essere tornato ad animare tutto il rione.